Andrò a trovare Luna Rossa come feci l'anno scorso e quest'anno è ancora più bello, devo dire, lo scenario. Di tutto, sia del villaggio, sia dell'area tecnica, complessivamente si è fatto veramente un ottimo lavoro. Migliaia di persone dalla mattina alla sera, quindi è stata una bella settimana e una bella settimana per Napoli. I risultati sono molto positivi, poi il bilancio lo faremo alla fine, ma già è molto positivo. Io ho visto una città che si è subito adeguata bene, hanno lavorato bene la Polizia Municipale per strada, c'è stata la giusta elasticità, secondo me è andata molto bene. Poi dalla settimana prossima ci saranno delle novità importanti che verranno incontro a tante attese, quindi credo che troveremo un punto di equilibrio anche per il dopo. Poi stiamo ragionando anche per quest'estate, perché il villaggio ha funzionato molto bene. Ha funzionato molto bene, siccome c'è stata una compressione seria in questa zona dovuta al crollo della riviera di Chiaia, credo che si può ipotizzare, lavorando insieme con lo stesso spirito con cui abbiamo realizzato l'evento, con la regione in particolare, ma anche con la Camera di Commercio e con la provincia, poter fare qualcosa di importante per quest'estate. Ci stiamo pensando, potrebbe essere un modo per mantenere viva economicamente anche la parte lato mare del lungomare liberato.